WNTN Radio Boston, welcome back to my bilingual show, this is your host Viviana Dragani and today I have a wonderful guest here with us, her name is Lydia Schillacci, she is an Italian pop singer, quattro tour mondiali con Eros Ramazzotti e una carriera brillante, oggi ascolteremo i suoi brani, ma prima vorrei farvela conoscere, benvenuta in America! Ciao Viviana, ciao a tutti, ciao veramente a tutti, grazie mille! Grazie a te! Allora iniziamo a parlare della tua carriera e di come è nata. Allora guarda, è nata da piccolissima in Sicilia, io sono siciliana, anche se adesso insomma il lavoro mi ha portato a girare il mondo e a vivere ovunque in Italia, tra Milano e Roma, e quindi iniziata da piccola, da tre anni già sapevo che volevo fare questo mestiere, ho amato fin da subito il jazz perché è stato il primo mio amore, infatti la mia canzone diciamo che mi ha fatto innamorare della musica è stata Summertime, quando l'ho sentita in radio da piccolina, ho detto voglio fare questo! E da lì la mia famiglia insomma mi ha aiutato, mi ha secondato nei miei sogni, ho aiutato a studiare, ho studiato al Conservatorio Penoforte, ho studiato canto lirico, jazz, poi sono partita, il mio primo live che ho fatto è stato a nove anni, e da lì insomma sono partite tutte le mie collaborazioni e le mie anche esperienze di carriera, fino ad arrivare in Italia a fare la mia prima esperienza nazionale con Operazione Triunfo, che era questo primo talent show condotto da Miguel Bosé di qualche anno fa, che mi ha portato a grande successo e da lì sono partite tantissime cose meravigliose, da un contratto con Warner Music, a collaborazioni nelle colonne sonore, perché scrivo anche i miei pezzi, ovviamente scrivo i miei pezzi, e quindi collaborazioni per scrivere le colonne sonore delle fiction, dei film in Italia, poi è arrivato Ramazzotti, collaborazioni importantissime per me, perché ho lavorato per quattro tour mondiali, come hai detto tu prima, per otto anni sostituendo Anastasia nel duetto di I Belong To You, e oggi la cosa bella è che sono vincitrice di tale quale show, che è stato uno dei programmi di punta insomma della RAI di quest'ultimo periodo, e adesso sto lavorando a tanti pezzi nuovi, al mio progetto discografico, al mio progetto insomma di canzoni, e quindi spero insomma arriveranno tantissime cose, e sono qui in America per fare dei live bellissimi, e insomma spero che veniate tutti a trovarmi. Assolutamente, so Lidia Schilacci started to singe quando she was only three years old, and her first live concert was at only nine years old, and she fell in love with jazz, with Summertime, the wonderful song by Gershwin, and she also started opera and piano, and so then she took part in a famous talent show, Operazione Trionfo, and after that her career was wonderful and full of events and soundtrack, and four world tour with Eros Ramazzotti, and she also performed in the duet with replacing Anastasia. So thank you for sharing your wonderful career with us. Senti, parliamo adesso del tuo ultimo singolo. Sì, allora guarda, il mio ultimo singolo adesso viene da un progetto che sto portando avanti da un bel po' di tempo, e quest'estate è uscito questo progetto pilota, diciamo, che vuole portare la musica, la mia musica, in diverse parti del mondo, e sono uscita quest'estate, il 3 giugno, con questo progetto, questa canzone che si chiama Ancora Sola, che ho tradotto in inglese, perché è nata in realtà anche in inglese, che si chiama I'm Alone Again, e quindi sono partita con questo progetto, e poi adesso invece è arrivato quest'ultimo lavoro, che si chiama Il cuore che non ho, ed è una ballad molto sentimentale, molto introspettiva, e parla della speranza di innamorarsi ancora, e quindi anche perché i sentimenti sono la prima cosa che mi ispirano nelle canzoni, comunque quello che vivo, quello che vedo, e le persone mi ispirano, anche la vita di altre persone, o quello che posso identificarmi anche nella mia vita, cioè magari ascoltare la gente mi aiuta a scrivere delle cose nuove, che però poi me le ritrovo anche io, nel mio bagaglio personale, di vita personale, e quindi questa canzone parla di questo, della speranza di potersi innamorare ancora, ed è una canzone introspettiva di un dialogo notturno, che ho fatto io nella mia camera scrivendola, e che è veramente molto, è stato molto emozionante per me. Grazie. Quindi, il suo, so, her single is Ancora Sola, in English, I'm Alone Again, so you can check it out on Spotify, I think, right? Spotify? Yeah. Is it? Okay, great. And also, iTunes, it's everywhere, I think, okay. And Il cuore che non ho, it's another single, it's a beautiful ballad with a sentimental mood, and it's about hope for falling in love again. Grazie, senti, ti sentiremo cantare nell'area di Boston, qui presto? Assolutamente sì, assolutamente sì, ci sarà un concerto domani sera, e poi il nove, poi l'undici. Okay, domani sera dove? Adesso... Oh, okay, non importa. Gloucester, scusami. Gloucester, okay, bellissimo. Bellissima, bellissima città. Poi saremo qua vicino, adesso aspetta un attimo che se riesco a guardarmi, a guardare le date, solo che non mi vedrai un minuto. Va bene. Non mi vedrai un minuto, ma non ci sono. Allora, aspetta, eh, perché così ti dico tutti i posti precisi, e non sbaglio assolutamente la pronuncia, scusatemi. Allora, Gloucester. Watertown, Chestnut Hill e Arlington. Quindi è l'2 di dicembre, l'8 a Watertown, il 9 a Chestnut Hill e l'11 ad Arlington. E quindi siamo in giro con queste date. Favoloso. Senti, parliamo di Holiday Musical Café, che appunto avrà luogo il 9 dicembre alle ore 7.30 a Chestnut Hill. A Chestnut Hill, sì. Ah, e allora, guarda, sarà una serata particolare, perché quella lì è una serata un po' più unplugged, dove, insomma, faremo una cosa per poche chicche, poche canzoni, però mirate, unplugged, con Maxime Nubansky, è una band pazzesca di musicisti della Berkley School di Boston. E quindi è una cosa molto bella, molto intima. Quindi mi invito tutti veramente a venire e a sentirci. Insomma, sarà fantastico. Assolutamente. So, please come join us for Holiday Musical Café. It will take place on December 9th at 7.30pm at Shops Chestnut Hill in Boylston Street. And, yeah, so Starrin is a famous pop singer from Italy, Lydia Schillacci, winner of the 2020 TV show Tale e Quale, and also wonderful professional artists, such as the pianist, Maxime Lubarsky, and other musicians from Berkley College of Music. Okay, grazie. So, I'll be there, sarò lì ad applaudirvi. Grazie mille per essere stata... I wait you on my concert in this date. Assolutamente. And in this concert I wait you. Thank you, thank you, grazie. E quindi adesso rimanete sintonizzati perché ci ascoltiamo ancora sola e il cuore che non ho. Grazie. Bye bye.